Proseguono a ritmi serrati i controlli del reparto operativo aeronavale che continua a svolgere una costante azione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Nei giorni scorsi, attraverso un assiduo controllo del mare costiero, gli uomini del reparto hanno eseguito numerosi sequestri di ricci di mare per un totale di 12.200 esemplari che una volta sottratti ai pescatori di frodo sono stati prontamente rigettati in acqua per consentire la ripopolazione delle preziose colonie marine. I controlli stanno proseguendo anche in questi giorni e si intensificheranno soprattutto nel periodo prenatalizio in cui maggiore è la domanda sul mercato ittico del pregiato e chinoderma. Dall'inizio dell'anno il dispositivo aeronavale del Roan ha assicurato una vigilanza dello spazio marittimo di competenza regionale con oltre 8.000 ore di navigazione e più di 350 ore di volo svolte nell'arco delle 24 ore, festività comprese nel corso delle quali sono stati eseguiti 166 controlli sulla pesca che hanno portato alla verbalizzazione di 227 soggetti, al sequestro di 24 attrezzature da pesca e all'irrogazione di 52.000 euro di sanzioni amministrative. Va ricordato un servizio svolto proprio nella notte dello scorso capodanno dagli uomini della stazione navale di Civitavecchia quando sono stati sorpresi due pescatori di frodo che avevano appena depredato circa 9.000 ricci di mare con l'ausilio di autorespiratori ad aria in violazione alla vigente normativa che prevede un numero massimo di 50 esemplari per ciascun pescatore. Nel mese di ottobre i militari della sezione operativa navale di Roma hanno sorpreso 5 soggetti intenti alla pesca di frodo, per loro sono scattate sanzioni amministrative per 10.000 euro e il sequestro dell'intero pescato, consistente in 155 chili di polpi, tutti rigettati in mare in quanto ancora vivi. Sempre in questo settore la stazione navale di Civitavecchia ha sequestrato 188 attrezzi da pesca, consistenti in trappole per polpi, non in regola con la vigente normativa. Peraltro questa tecnica, oltre a recare danni all'ambiente marino, costituisce, se priva della prevista segnaletica, un pericolo per la navigazione. Il reparto operativo aero-navale continua il suo impegno in molteplici settori di servizio, in piena sinergia con i reparti territoriali della Guardia di Finanza a garanzia dell'economia legale e della tutela dell'ambiente.